Ciao, sono Domenico Luongo, da oltre 20 anni sostengo le persone nella loro crescita personale, relazionale e professionale. Nasco come ingegnere, però sin da subito sono riuscito a far dialogare dentro di me la passione per la tecnica e la razionalità con quella che si sentiva attratta, una calamita verso l'Oriente e la ricerca interiore. Quindi ho incominciato questi studi, metterci lo stesso impegno che avevamo messo nello studio dell'ingegneria, sono diventato curatore del libro La Radice del Tao e mi sono diplomato in medicina classica cinese, però sentivo che mancava ancora qualcosa, volevo mettere un po' meglio le mani in pasta in questa filosofia e in questa medicina energetica e ho fatto dei master sulle tecniche complementari della medicina cinese, tra cui la coppettazione. Da allora è nato un amore, le coppette sono sempre nel mio studio e propongo sempre alle persone con dei risultati molto molto belli. Sono diventato docente e divulgatore della medicina cinese e posso rilasciare crediti professionali. Quando insegno la coppettazione ho delle grandi soddisfazioni. In primo luogo perché mi sembra di riportare alla luce una tecnica che è un po' nel DNA degli esseri umani, la facevano in Egitto, la facevano in Cina, in Africa, e ho scoperto che anche nel sud d'Italia, nell'est Europa, insomma è una tecnica che appartiene a tutto il mondo, che è molto bella riportarla alle persone. Quindi in secondo luogo mi piace l'idea di portare consapevolezza e di portare un'idea antica ma anche molto moderna di trattamento. Abbiamo visto i nostri giovani campioni del moto vincere tutte le medaglie, tutti coppettati, quindi è una tecnica che porta grandi benefici ancora oggi e anche a alti livelli. In terzo luogo permette sin da subito di fare trattamenti sia amatoriali, alcune persone mi dicono vuoi aiutare mio marito che sta invecchiando e così via, parenti, amici, oppure professionali e se sei agli inizi e vuoi fare di queste tecniche una professione ti permette sin da subito di fare dei trattamenti e portare da subito benefici alle persone. Perché succede questo? Da un lato perché la coppettazione permette di avere grandi benefici a livello energetico che vedremo nel dettaglio durante il corso e dall'altro ci insegnano i libri, i testi di coppettazione che un trattamento di coppettazione permette un aumento della circolazione del sangue dal 300 al 400%, quindi immagina i benefici che può fare a tutto il corpo un trattamento di coppettazione. Abbiamo pensato questo corso aperto per tutti, non servono particolari conoscenze, ma serve la passione, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di mettere le mani in pasta, la voglia di aiutare gli altri e non mi resta altro che salutarti, non vedo l'ora di conoscerti e di imparare insieme questa meravigliosa tecnica antica come l'uomo e che la medicina cinese ha reso immortale. A presto!